Esordio a Isernia per il nuovo segretario comunale Riccardo Feola, da dove viene segretario? Io vengo dal comune di Casore in provincia di Napoli e ho fatto un'esperienza già in un comune capoluogo, il comune di Avellino e poi in precedenza ho 12 anni in Emilia Romagna, nei comuni della Romagna, quindi diciamo che ho un'esperienza abbastanza ampia. Perché questa sua domanda per Isernia? Perché diciamo volevo ritornare a lavorare nei comuni capoluogo che hanno una, diciamo anche se Isernia è un comune diciamo di 21.000 abitanti però comunque è un comune capoluogo e per i segretari è comunque insomma un momento di prestigio lavorare nei comuni capoluogo e sinceramente insomma non è che avevo fatto la domanda, il sindaco ha valutato fra molti curriculum che sono pervenuti e ha ritenuto il mio essere insomma quello, avere insomma abbastanza consistente e quindi ha ritenuto poi di nominarmi in tutto qui insomma. Che situazione ha trovato il comune di Isernia? Ma il comune per ora, per quello che ho visto diciamo sconta un po' la difficoltà soprattutto del personale a livello numerico perché comunque è una struttura complessivamente e numericamente diciamo abbastanza sottodimensionato rispetto alle esigenze perché comunque soprattutto per quanto riguarda l'ufficio tecnico gestisce, il comune gestisce parecchi fondi e quindi lavori però il personale numericamente è abbastanza sottodimensionato. Per il resto mi sembra un comune insomma come gli altri quindi le solite problematiche che insomma non differiscono poi dagli altri comuni sicuramente più tranquillo rispetto a Casoria.